Il nostro compito non deve essere nient'altro che quello che è aiutare queste persone che scappano dalle guerre, che scappano da queste situazioni, aiutare i minori, perché si parlava di minori, aiutare i minori che scappano dalle guerre e siamo totalmente d'accordo. Tutto il resto è un dibattito politico. Ha sentito quel signore dell'ONG che abbiamo intervistato nel servizio, diceva noi salviamo le vite umane, punto. Se poi si fanno le relazioni, ci dicessero cosa dobbiamo fare, perché quando adesso lui è venuto per terra, ma un ragazzino di dieci anni che viene per mare, certo l'ha intenzionato a pigliarlo troppo in là, troppo vicino agli acqui libri. Io lo capisco che ci sono tanti punti oscuri nella struttura di quello che accade, capisco che è incredibile che Malta manda continuamente le persone ai nostri porti e non li prende. Vedo tutte le contraddizioni, ma mi chiedo, quel ragazzino di dieci anni lo salviamo o lo lasciamo in mare. Il ragazzino di dieci anni dobbiamo far di tutto affinché il ragazzino di dieci anni non parta e quindi mettere nelle condizioni e quindi come dicevo ragionare alla fonte, alla fonte dei problemi. Il ragazzino di dieci anni lo salviamo perché è giusto salvarli perché li dobbiamo salvare tutti quelli che scappano. Li dobbiamo salvare però c'è modo in due modo. Allora noi abbiamo fatto un esposto alla procura come gruppo della Lega per capire quello che sta succedendo con le ONG. Perché se quello che sappiamo e se quello che sembra di aver capito, cioè che Gentiloni sul suo tavolo ha un dossier su questa situazione, c'è già sul tavolo del governo un dossier che ci parla, ci dice che ci sono le ONG che prendono accordi con gli scafisti. Questa è una cosa gravissima. Se poi viene fuori che le ONG che battono non bandiera italiana, perché le navi delle ONG non battono bandiera italiana, invece che portare queste persone che vengono giustamente salvate e le portano tutte in Italia, una domanda ce la dobbiamo fare. Perché se una nave inglese prende tutti e li porta in Italia, la bandiera inglese, forse una domanda me la faccio. Se invece che portarli a Malta, un'altra domanda me la faccio. Un'altra domanda noi ce la stiamo facendo dopo aver votato, dopo che è passato in Senato la legge quella sui minori non accompagnati. Noi ci siamo fatti due domande. Una domanda è perché quando noi abbiamo chiesto che vengano identificati i minori e venga identificato se è realmente un minore o no, perché c'è una tecnica che viene misurato l'osso, praticamente l'osso del polso. Attraverso la misurazione dell'osso del polso si capisce se a spanne il minore è realmente minore o è maggiore.